Con queste poesie di Pascoli, cominciando dal cieco, sulle quali non voglio procedere ad una analisi stilistica né delle figure retoriche, ma semplicemente cogliere il pensiero, la tensione verso l'infinito, la ricerca di Dio, laddove Pascoli molto spesso viene interpretato in modo completamente differente. Pascoli per tutta la vita cerca Dio e purtroppo non ha una risposta, se ci sono queste risposte, alla sua sensibilità sono momentane, sono passeggere. Quindi io partirei dal cieco e vorrei di questa composizione evidenziare il contenuto che la lega ad altre poesie, ad altre composizioni assai significative, anche perché ci rivelano tutta l'esistenza del Pascoli sempre e soltanto nella prospettiva di una tensione che non riesce a soddisfarsi. La sventura, noi sappiamo, fece irruzione nella sua vita a solo 12 anni, quando il padre, Ruggero, fu ucciso proditoriamente. La madre morì di crepacuore l'anno dopo. Non è poco, eh? Giovanino crebbe devastato da quel dolore, perché poi seguirono altre morti. Conobbe la miseria, l'angoscia, la ribellione, fino anche il carcere, l'ho ricordato nella voce, la tentazione del suicidio che rievoca appunto in quella composizione. Il vero Pascoli non riuscì mai a superare quella terribile esperienza, alla quale ne seguirono tante altre con tanti lutti. E la natura, N maiuscolo, che tanto ruolo ebbe nella sua opera e che fu percepita come madre semplice, amorevole e pietosa, non riuscì mai ad appagarlo pienamente. trapela ovunque la nostalgia di una fede che dia luce al suo cuore e si ripete l'astruggente domanda per una risposta che dia un senso ultimo all'esistenza. Così, dai primi, ai nuovi poemetti, ai canti di Castelvecchio, ai poemi conviviali. A volte il piatto della bilancia si piega più allo sconforto. Ora, verso la speranza, in un'altalena che sembra non avere un esito definitivo. Anzi, molto probabilmente l'esito non c'è proprio. E il dubbio, la ricerca, condurrà l'italo amleto fino alla tomba. Il cieco, si va di bene, non è l'umanità in genere, come spesso si è voluto vedere in questa lirica, ma lui, Giovanni Pascoli, che, vediamo se riusciamo a trovare, che, 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 che vedevo in sogno che vedevo il vero. Nel chiaro sonno. Poi, all'alba della vita, si ruppe il tenue filo. Siamo qui. Si ruppe il tenue filo. Da allora vane stata la ricerca di che cosa? Dei due penduli capi. L'esistenza di Pascoli, così, rimane sempre tutta entro la sua esistenza. Non si estende, come quella delleopardi, a una prospettiva universale, a partire evidentemente dai grandi dilli. Sebbene in certi versi, sembra risuonare o ripetersi quella estenuante esperienza che dovrei trovare. Eccolo qua. Donde? Ho messo in crassetto i pezzi, i versi che mi interessavano. Donde venni non so, né dove io vada saper me dato. infatti ci ripropone solo in apparenza i passi del canto di un pastore errante. Perché? Perché subito dopo si legge e vediamo di trovarlo di trovarlo di trovarlo ed anche a me lontano. Ecco dunque l'esperienza che diventa tutta individuale non universale alla maniera delleopardi. Sia ben chiaro che stiamo parlando delleopardi che dei secondi dilli. Non parliamo dei piccoli dilli evidentemente. L'attenzione della natura inoltre può consolarlo solo per un momento. Non è sufficiente. Leggiamo proprio all'inizio se non eccolo sì infatti leggiamo infatti chi l'udì prima piangere? Ecco per udirlo ha scese qualche ramarro per una vitalba e stettero per breve ora sospese su quel capo due grandi aquile fosche. Però si aggiungono altre immagini fosche le aquile ma presso un cane con le zampe tese all'aria morto tra un ronzio di mosche quindi evidentemente la natura ha un suo ruolo importantissimo ma assolutamente non riesce la natura nelle sue varie espressioni a dare una risposta a questa tensione che si perde nella natura ma non trova nella natura una risposta soddisfacente. vediamo un po' ancora un'altra immagine dovrebbe essere qua ecco perdonatemi perché non trovo quello che mi interessava dovrebbe essere qui eccola qua di nuovo la natura pietosa verso la fine di questa di questa poesia la rugiada sopra il suo capo piovero le stelle e la rugiada sopra il suo capo piovero le stelle e un'attenzione questa della natura che al poeta non basta di qui il dialogare altalenante le domande incalzanti il timore di non essere neppure tenuto in considerazione e infatti troviamo troviamo e vanno ecco e vanno e vanno senza trovare l'eco le risposte le domande gli interrogativi gli eterni perché non trovano neanche l'eco altro che trovare una risposta poi in questo altalenare nasce ogni tanto una speranza ma forse uno mi ascolta uno mi vede invisibile se dentro se cela si nasconde ma chi è costui piangi mami oppure soghini odi ti si compiace della ti si compiace della mia querela del mio lamento oppure egli mi guarda immobilmente e tace e forse una mi vede ma questo lo vediamo dopo ecco già però la settima sezione di questa poesia il passaggio dal maschile al femminile quella che stavo appunto leggendo prima o forse una mi vede una ma ascolta invisibile a un conoscitore del pascoli fa immaginare come l'avventura possa terminare come termina è qui chi è questa una che mi ascolta finch'io so la strada una la morte gli sussurro vieni la morte gli sussurra io la conosco questa strada che stai cercando vieni questa lirica però non è buia in assoluto tante altre non possono essere luse senza farsi di pasco un'iria completamente distorta si pensi a questo proposito alla buona novella che si trova a conclusione dei poemi conviviali i primi movimenti di questa poesia rispettano apparentemente il canto notturno di un pastore errante nell'Asia anche qui le grandi domande il dialogo con la luna e con la gregge anche qui i pastori i pastori dove è dove è dove è dove è finito e non lo trovo dunque anche qui i pastori cosa fanno eccolo qui il cuore dei pastori era in cammino sempre che erano erranti nel cuore della notte santa però un angelo reca loro una buona novella eccola la buona novella gioia con voi scese Dio sulla terra allora i pastori muovono e giungono a Betlemme e vedono quella giovane madre che che e lacrime sorridea sopra il suo nato e i pastori le chiedono le chiedono se è lui quel che non muore quel che non muore cosa risponde la mamma ed ella il figlio mio morrà in una croce chiedono allora i pastori se è Dio rispose all'uomo l'universo è quello e tutto converge sul bambino Gesù ora non si può pensare che una poesia scritta con questo cuore sia l'espressione di un poeta ateo e l'espressione di un poeta sofferente che cerca affannosamente ma la sua fede non trova una risposta sullo stesso piano si trova la pecora sbarrita un frate alza lo sguardo verso il firmamento stellato e e in quella immensa polvere di luce che splende in cielo lo fa sentire un niente e allora cosa succede? il dubbio entrò nel cuore Tristo e Pio chi sei tu terra perché in te si sveli tutto il mistero e vi si incarni Dio è una domanda più che lecita no? ma perché proprio qui? Dio che si incarna in Cristo è un pulviscolo un pulviscolo nell'universo perché proprio su questa terra un astro oltretutto senza più luce lo leggiamo qui un astro sei senza più luce morto foglia secca scheggia grano favilla atomo nulla di nuovo il cielo non rimane indifferente risponde vedete come siamo su piani differenti rispetto a leopardi e quando qualcuno vuole imprudentemente interpretare quel cielo del 10 agosto lontano come se fosse il cielo che non risponde provi a leggere queste poesie e vedrà che c'è un altro pascoli ben differente da quello che si vuole concepire oggi e allora il cielo risponde Dio buon pastore è sceso proprio sulla terra perché è questa la pecorella smarrita dove sia l'odio dove sia la guerra gli altri astri sono come le 99 pecorelle tutti al sicuro nell'ovile del cielo addirittura persino ignari con l'assù del male non così la terra e allora e Dio perciò scendea la cera o l'apendice cercando in fondo dell'abisso astrale la terra sola rea sola infelice ricordo che la pecorella smarrita nel libro dei nuovi poemetti precede la vertigine lirica in cui l'autocoscienza della propria infima piccolezza culmina nella speranza di incontrare Dio la vertigine infatti leggiamo sperar così si conclude sperar che cosa la sosta il fine il termine ultimo io io te di nebulosa in nebulosa di cielo in cielo in vano e sempre Dio la caparbietà l'irriducibilità razionalista il senso di una dignità negata o vacillante forse la superbia nella consapevolezza della propria altezza intellettuale non permisero a Leopardi dei voli così alti che potevano sembrare cedimenti ricordate cosa diceva non io con tal vergogna scenderò sotterra su questa linea però io concluderei con forse la più bella di tutte il fringuello cieco lui pascoli il fringuello cieco che non riesce a vedere mentre gli altri uccelli vedono lui non riesce più a vedere quello che abbiamo visto nella prima poesia il cieco quello che ha perduto all'inizio della sua adolescenza che ha perduto irrimediabilmente nell'infanzia ecco chi è il cieco abbiamo detto l'uccellino che un tempo volava e cantava lieto per il sole in cielo e il nido degli affetti in terra ben presto però irruppero i lutti e ne fu accecato sorgerà ancora il sole la cornacchia gracchia il proprio scetticismo l'assiolo il proprio nichilismo l'usignolo il melanconico addio ma l'umile allodola allodola ad laudula significa proprio lei che canta canta le lodi le lodi semplici laudula c'è un diminutivo le lodi semplici a dio scende ad annunciare ciò che finalmente ha visto c'è c'è lode a dio il merlo e l'usignolo ritengono che lei sia un testimone affidabile così da poter dire il primo io lo vedo anch'io 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 ma il fringuello pascoli che aveva preteso di vedere con i propri occhi resta solo con la conclusiva domanda protesa verso il sole ma il di chi ho persi cieli e nidi ahimè che fu vero e si è spento il giorno si è spento è calato il buio il buio della notte sentì gli occhi pungermi ecco perché parliamo del fringuello cieco è lui il fringuello cieco e vidi che s'annerava lento lento tutto intorno a lui ed ora perciò mi risento e grida è il grido della fede o sol 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 sole mio come si può interpretare la poesia di pascoli come la poesia di un ateo io proprio non lo so lento lento siamo le pot che s'annerava